Abbiamo appena terminato la seduta pubblica e il mio intendimento elaborare una relazione che sia il più possibile esaustiva delle questioni che abbiamo affrontato. Ho ritenuto che non ci fossero gli elementi per poter sospendere una seduta pubblica che per regolamento viene sospesa solo per motivi di forza maggiore nel corso della seduta ho richiamato tutti i senatori ad evitare di incorrere in incidenti lo stesso senatore Crimi mi ha dimostrato di aver postato qualcosa del quale non era autore principale ma in uno spazio temporale precedente all'avvio della seduta pubblica e quindi sicuramente non durante i lavori della Camera di Consiglio. Questo mi è sembrato sufficiente a poter non immaginare che esistesse nessuna ragione per poter sospendere una seduta e per quindi interrompere i lavori. Come capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Giunta esprimo la nostra massima soddisfazione per il risultato di oggi è prevalsa in questo Paese finalmente la responsabilità, il senso delle istituzioni e il rispetto della legge La legge Severino è stata applicata nei termini che avevamo richiesto con l'immediatezza che la legge richiedeva è stata data più ampia facoltà di difesa all'Onorevole Berlusconi ci attendiamo che in aula il voto sia palese in modo che tutti i gruppi politici possano assumersi la responsabilità del voto che esprimeranno sulla decadenza di Berlusconi Io non giudico un collega tanto più per un post fatto prima di entrare nell'audienza lo spiegherà lui, l'ha già spiegato in Giunta, l'ha già spiegato il Presidente, non era di alcuna rilevanza Noto invece che i soliti denigratori, e mi riferisco al gruppo L'Espresso Repubblica che non perde occasione per denigrare e infangare il movimento ha costruito su notizie false appoggiandosi anche a qualche parlamentare sostenitore dei gruppi imprenditoriali che fanno le opere della TAV Ecco, questa è veramente stata un'azione riprovevole Qui è bene chiarire che in discussione non era la possibilità di applicare una pena accessoria nascente da una sentenza definitiva di condanna che era una questione ovviamente della quale bastava prendere atto non era una questione controversa Qui noi stavamo discutendo soltanto dell'applicazione di una legge che per tante ragioni a noi non sembrava applicabile ad una vicenda che andava invece regolata per il tramite degli effetti di una sentenza penale di condanna Senta, due elementi, è stata già applicata a consiglieri regionali e comunali questa legge e poi oggi avevate il fuoco amico un avvocato di un esponente del vostro partito che ha precisato che Berlusconi, il senatore Berlusconi, non ha i requisiti per restare in Senato Dunque, intanto anche questa considerazione ha costituito, questa sua considerazione ha costituito oggetto di valutazioni da parte nostra Le repliche sono ovvie alle sue domande Intanto il fatto che queste disposizioni siano state ritenute applicabili a rappresentanti delle autonomie locali non significa che quelle decisioni fossero giuste e che quindi noi non potessimo rivederne l'esito ovviamente Quanto al fuoco amico di cui lei reiteratamente parla è ovvio che la pretesa legittima o meno che sia stata di un senatore di subentrare nella posizione del senatore Berlusconi rende alquanto, voglio dire, non dico dubbia perché sarebbe un errore dirlo in questi termini, ma insomma dimostrativa come una posizione di parte le tesi rappresentate dall'avvocato che ha assistito la posizione del senatore che appunto ritiene di poter subentrare al senatore Berlusconi Io credo che non sia ancora una sconfitta Il voto non era pro o contro nessuno il voto era semplicemente e rigorosamente relativo all'applicazione della legge anticorruzione